eccoci qui allora buonasera buonasera a tutti benvenuti a questo questo nostro incontro che è digitale ma non meno reale come scopriremo nel corso della nostra chiacchierata sono siamo qui perché partiamo da da questo libro il libro è il libro di l'ultimo libro di matteo lancini vediamo e farlo vedere bene si chiama l'età tradita oltre i luoghi comuni sugli adolescenti e ne parliamo naturalmente con l'autore che è docente in varie università milanesi psicoterapeuta da molti anni presidente della fondazione minotauro e ne parliamo con stefania galassini che è giornalista anche lei è docente in svariate discipline tutte connesse con la rete ed intorni in all'università cattolica di milano e ringrazio per essere con noi questa sera ringrazio naturalmente in regia eugenio cipolla e e pensiero solido che l'associazione che organizza questo nostro stare insieme allora cominciamo subito perché il nostro impegno di terminare entro le 19 20 ora locale cioè ora di milano quindi il si comincia dall'autore naturalmente da professor lancini chiedendogli da dove nasce questo libro e come mai proprio adesso durante questo tempo di pandemia buonasera a tutti e grazie innanzitutto a pensiero solito antonio per meri per l'invito buonasera anche a stefania garassini nasce da l'idea che in poche parole ci sia una necessità a mio avviso di utilizzare un evento così drammatico come la pandemia per aiutare i giovani del nostro paese i nostri figli i nostri studenti a costruirsi un'idea di futuro un po' più come dire aderente a quelle che sono invece le cadute di alcuni ideali che in questi anni li hanno portato in molte occasioni a stare male a esprimere disagi verso se stessi l'idea del titolo l'età tradita ovviamente origina dall'idea che esistono degli stereotipi dei luoghi comuni a mio avviso sugli adolescenti che vanno ridotti e che hanno a che fare anche con delle promesse che gli facciamo in infanzia che poi appunto vengono tradite successivamente io sono dell'idea che appunto una pandemia deve essere un'occasione di crescita di sviluppo c'è una frase di termino subito però per me importante che mal togliero che in questo momento è di ritornare alla normalità di prima io mi auguro che invece una pandemia sia un'occasione per andare avanti per soffrire ma per costruire un progetto futuro migliore in questo caso per i nostri figli e studenti io ringrazio il professor lancini per questo diciamo esordio aggiungo che poi sarà oggetto del prossimo intervento lavoreremo in questo modo faremo un ping pong tra lancini e garassini e quindi vado subito da stefania da stefania professoressa garassini ponendole partendo proprio da un concetto che riguarda internet che è contenuto nel libro di lancini cioè lancini dice a un certo punto che internet non è un oggetto ma è un ambiente allora è una affermazione che a me ha colpito parecchio perché la trovo aderente alla realtà e secondo lei sono sono assolutamente d'accordo sempre di più è un ambiente adesso stiamo parlando di di metaverso quindi che è un mondo tridimensionale nel quale si svolgeranno tante attività non se ne se ne parla da da qualche mese quindi certamente è un ambiente cioè è qualcosa che tende a entrare in molti aspetti della nostra vita e ormai ha potremmo dire cambiato tutti gli aspetti della nostra vita quello della relazione quello della ricerca dell'identità quindi sicuramente è uno strumento che si è qualificato come una ben più di un oggetto di un semplice oggetto con cui facciamo alcune cose ma è uno strumento che ha cambiato tantissimi aspetti della nostra quotidianità quindi sicuramente sono d'accordo con questa con questa definizione proprio per questo ha dei risvolti molto rilevanti dal punto di vista educativo tipo e tipo il fatto che non è un ambiente neutrale secondo me cioè è un ambiente che ha delle caratteristiche che favorisce certi comportamenti e ne rende difficili altri banalmente l'uso di instagram favorisce il confronto favorisce la quantificazione della propria popolarità e quindi della propria reputazione e quindi dal punto di vista dell'autostima è come se sottoponesse un ragazzo a un continuo a una continua valutazione numerica e quindi paragonabile perché i numeri si possono confrontare quindi questo che cosa è questo è un modo in cui il software potremmo dire il sistema informatico vede la realtà cioè la vede come numeri allora questo tendiamo a farlo anche noi però cosa succede che se usiamo instagram cominciamo a giudicare le persone sulla base di quanti follower hanno di quanti like hanno mia figlia di 17 anni quando instagram ha detto che toglieva i like ha detto beh meglio perché così non mi faccio influenzare quando guardo la foto di qualcuno e vedo che ha pochi like e quindi vabbè automaticamente non mi interessa quella persona questo è un esempio di come il modo in cui la tecnologia vede il mondo non è neutrale cioè tende a favorire una certa un certo punto di vista in questo caso quello di quantificare confrontare ma potremmo fare molti altri esempi di come la tecnologia ha cambiato il nostro modo di fare tante operazioni pensiamo alla lettura la lettura su carta la lettura su schermo ecco ci sono tanti aspetti no quindi questo lo dobbiamo sapere dobbiamo sapere che non è neutrale ha una sua potremmo dire identità una sua capacità di cambiare il modo in cui noi vediamo il mondo non è positiva o negativa questa è semplicemente da conoscere proprio per usarla al meglio nel suo libro il professor lancini proprio ci invita a approfondire questo tipo di conoscenza e ci invita a non considerare a non dare la colpa internet dal momento in cui noi genitori siamo i primi che viviamo in internet usiamo internet per lavorare ci mostriamo quotidianamente sempre attaccati ai nostri device ai nostri smartphone davanti ai figli rispetto ai quali poi chiediamo di staccarsi da questi oggetti che magari gli abbiamo dato quando erano anche molto piccoli d'età e corrisponde questo professore si ve corrisponde ovviamente a partire dalla mia visione dell'adolescenza cioè la semplificazione a mio avviso è questa no cioè ovvio che un bambino va accompagnato a delle esperienze durante la crescita e questo lo abbiamo imparato con la televisione anche un adolescente però è una visione a mio avviso qui partiamo è che l'adolescente è un soggetto sempre più esperto di relazioni a mio avviso l'adolescente odierno capace di identificarsi enormemente con le angosce le ansie anche le contraddizioni degli adulti e a mio avviso non solo non ha alcun senso ma a mio avviso ha dimostrato in questi anni già prima di una pandemia quanto gli adulti davanti a una società complessa che hanno creato proiettassero su internet e soprattutto sui giovani tutti posso dire i disastri le contraddizioni e quindi certamente io ritengo che se qualcuno ritiene che internet sia un'esagerazione io sono tra questi sono prontissimo a sostenere agli adolescenti di usarlo meno quando vedrò tutti i gruppi di whatsapp delle madri dei genitori chiudersi immediatamente per decreto presidenziale quando vedrò la politica non aprirsi più un profilo quando vedrò qualsiasi collega che fa il mio mestiere di smetterla di usarli invece che lanciare appelli dai propri profili social per dire agli insegnanti ai genitori che i ragazzi usino meno i social abbiamo apparecchiato una tavola un mondo su cui si può discutere dove secondo tutte le ricerche economiche e sociali serie se c'è un lavoro per i nostri figli e studenti è saper usare internet e produrre un videogioco continuare invece a considerarli come scuola e famiglia i nostri due nemici ci fa perdere credibilità anzi di più prima ci faceva perdere credibilità dopo una pandemia fa proprio perdere di vista il fatto che gli adulti pensino ai ragazzi pensino al loro futuro e purtroppo per questo io dico basta prendersela con internet basta limitarsi ai danni di una pandemia che ci sono sicuramente sulle nuove generazioni ma la domanda vera è questa ma che cosa abbiamo intenzione di fare per far sentire a questi ragazzi che sono attesi che hanno un futuro che ci sono adulti capaci di identificarsi con i loro bisogni attuali e futuri questo è fondamentale ed è chiaro che il mio un appello diciamo così spero appassionato proprio perché se nel frattempo avessimo generazioni che contestano che si oppongono che trasgrediscono che cercano davvero di riabilitarsi attraverso un progetto che attacchi gli adulti e per riprendersi il futuro potrei stare più zitto purtroppo tutti i dati ci dicono che gli adolescenti odierni davanti appunto alla sensazione di non farcela perché in adolescenza senza futuro vuoi scomparire attaccano se stessi e quindi abbiamo il disturbo della condotta alimentare da tanti anni il suo equivalente maschile che è il ritiro sociale sempre più ragazzi si suicideranno socialmente chiudendosi in casa e non frequenteranno le scuole prepariamoci perché questo aumenterà di smisura questo fenomeno che è già in aumento tagli e gesti autonesivi quindi sarà meglio che gli adulti facciano sentire che sono in grado di identificarsi con i bisogni futuri di questi ragazzi tra cui quello di sapere usare internet per costruire il proprio futuro per avere successo anche popolarità esagerata come è stato detto prima del resto anche la scuola e anche i modelli televisivi ogni giorno misurano tutto in termini di audience di voti e di bocciature quindi se vogliamo contrastare il mondo di internet iniziamo dalla scuola dalla famiglia contrastiamo i modelli competitivi ma auguri perché oggi devi avere successo e popolarità a scuola ti danno la coroncina al primo giorno per valutarti alle primarie ti dicono sei fuori che il tasso di bocciatura è corrispondente come sappiamo anche alla dispersione scolastica che è un'emergenza e l'unico problema sarebbe quello della rete e no è appunto una cultura adulta che anche attraverso la rete deve pensare un po di più al futuro di questi ragazzi e il libro del professor lancini come lui stesso dice nella parte finale e come abbiamo sentito adesso non è un libro di ricette perché lancini dice nella parte finale del libro che lui non dice non sono i dieci modi con i quali trattare un adolescente che non rispetta gli orari di consumo dei videogiochi in casa giusto per fare un esempio ma è un libro che come stiamo cominciando a capire offre una cornice e un metodo cioè non ci dice il come ma ci invita a mettere a fuoco il cosa e il perché professor lancini se se l'ho letto bene perché anche su questo ci sono sempre fondati dubbi sul fatto che uno perché il problema della fondamentale della comunicazione come insegnano ai tempi in università cattolica a me e anche a stefania è quello della ricezione allora se l'ho capito bene il il in questo libro di non ricette il punto nodale però è come dire cambiare lo sguardo con il quale genitore guarda i propri figli adolescenti corretto è proprio così ma non solo il cosa il come io ho tentato ma il chi anzi io una ricetta la do devo dire la verità nel libro non credete a chi fa il mio mestiere vi dà le ricette perché purtroppo questa è una questione legata alla fragilità adulta dei consigli provo a darli anch'io ma come giustamente ha sottolineato il tema centrale è essere in grado di ascoltare e capire chi hai di fronte e come sappiamo i figli sono unici noi siamo persone non è che gli adolescenti sono una categoria no la chiamiamo adolescenti come noi ci chiamiamo individui ma ognuno di noi e i genitori che hanno due figli lo sanno hanno bisogno di un padre di una madre differenti pur vivendo in una comunità perché hanno caratteristiche differenti allora la questione centrale a mio avviso è questa oggi la famiglia ascolta molto di più i figli di quanto venisse ascoltato io mediamente la mia generazione per non parlare di mio padre che lo dico sempre non so neanche se mio nonno sapesse quanti figli aveva in casa forse le aveva fatte quindi non è certo un problema di una famiglia che oggi non ascolta il problema è se siamo in grado di ascoltare chi abbiamo davanti e quindi di accettare anche gli inciampi i fallimenti i dolori le crisi della crescita i grandi rimossi da una società dove la fragilità adulta e qui non è solo quella di papà e mamma a volte ma anche quella degli insegnanti porta a fare interventi stereotipati perché sono scritti sul libro delle ricette perché sono scritti su non si sa quali diciamo tavole sacre che però perdono di vista chi abbiamo di fronte allora su questo è chiaro che io penso sia importante raggiungere un figlio dove è uno studente là dove è al di là delle etichette dei disturbi specifici dovrebbe essere il compito di tutti gli adulti alle prese con un figlio è uno studente e ognuno di noi ha un funzionamento diverso che ovviamente poi deve essere regolamentato in una comunità e stefania professore professoressa garassini lancini ha detto ascoltare che abbiamo davanti nel suo libro a un certo punto dice così sarebbe importante provare a interessarsi autenticamente interessarsi autenticamente alle esperienze in internet dei propri figli chiedere a loro informarsi sul significato delle scelte effettuate nell'infinito mondo virtuale oggi sempre più reale in questa vita on life ripetendo la definizione che ha dato il filosofo luciano floridi è corretto questo ma mi sembra questo è un modo in effetti di tradurre questo ascoltare che abbiamo davanti facendoci carico in qualche modo realmente condividendo quello che sono le scelte non solo online ma penso anche le scelte dei videogiochi dei figli sì certamente sì io credo che è vero che la tecnologia di per sé non è l'unico punto dove appunto ci sono queste logiche di competizione queste queste dinamiche che tendono a rendere più difficile la vita degli adolescenti non è certamente solo la tecnologia giustamente è tutto un ambiente però è vero che la tecnologia è come se fosse una scorciatoia formidabile verso quelle che sono le passioni dei nostri figli cioè lo smartphone che hanno in mano è un concentrato di passioni di qualcosa che a loro interessa moltissimo e quindi per questo solo motivo deve interessare anche noi e quindi ecco questo è l'approccio che possiamo avere non possiamo dire no tu stai perdendo tempo no quello che ci rimprova noi ragazzi quando ci dicono boomer no tu non capisci tu mi dici solo che uso il telefono sto perdendo tempo ma non è assolutamente vero perché non tutto il tempo sullo schermo è uguale no quindi cercare di capire che le attività che i ragazzi hanno usando lo smartphone usando gli altri strumenti tecnologici sono attività diversificate che possono andare dal coltivare una passione una passione attraverso tutorial su youtube cioè un'altra figlia che ha imparato a suonare l'upulele attraverso dei tutorial su youtube e si è appassionata e ha cominciato a guardare video quindi ecco questo è un uso creativo un uso attivo del mezzo per esempio no poi ce ne sono altri quindi cercare di capire che è un mondo intanto complesso e poi nel quale i ragazzi riversano delle passioni reali in cui provano delle emozioni reali cioè verso quella youtuber verso quelle instagrammer nostra figlia magari prova una emozione è veramente un legame veramente stretto che noi facciamo fatica a capire cioè questo è un po certamente qualcosa forse in cui noi non riusciamo a entrare più di tanto perché non non riusciamo con le nostre logiche a capire come si può essere così tanto legati a un personaggio che non esiste e che però ti parla dallo schermo come se tu fossi la sua amica cioè che non esiste che tu non conosci e che forse conoscerai forse vedrai in qualche evento ma non certamente non è una tua amica reale no noi questo facciamo fatica a capirlo però dobbiamo sforzarci dobbiamo cercare di avere un atteggiamento curioso e aperto e disponibile non semplicemente censorio e di di vieti di proibizioni perché questo di per sé elimina ogni possibilità di dialogo e ci fa perdere una grandissima occasione che è quella appunto di approfondire le passioni dei nostri figli attraverso quello strumento lì che poi se ci pensiamo bene è uno strumento che di fatto abbiamo progettato e abbiamo realizzato noi adulti quindi il mondo che c'è dentro internet l'abbiamo fatto noi non è un mondo fatto da ragazzi per ragazzi è un mondo fatto da adulti e per adulti quindi è un mondo nel quale noi abbiamo cittadinanza e dobbiamo entrarci non non possiamo chiamarci fuori perché è troppo complicato perché tanto loro sono nativi digitali altra definizione che non favorisce l'incontro e non favorisce il dialogo no perché è un'etichetta che noi diamo ai ragazzi come se fossero già capaci di orientarsi in questo mondo non avessero bisogno di nessun tipo di guida di di scambio e quindi ehm ecco questa è una questa è una è un'occasione secondo me è molto importante che possiamo prendere come genitori anche come educatori anche a scuola ma a scuola un insegnante che sia in grado di valorizzare le passioni reali di un ragazzo ma un ragazzo quando si mette a che ne so a fare un'asta di scarpe da tennis ok non può sembrare una cosa assurda può passare i pomeriggi a cercare le scarpe più interessanti e a noi questo può sembrare assurdo però pensiamo alla logica che c'è dietro quel comportamento è una logica di passione ed è una logica di studio di approfondimento allora la sfida di una scuola è cercare di prendere quella logica lì e riversarla verso le altre materie ma per farlo deve andare lì con quel ragazzo e capire perché gli interessano così tanto le scarpe da tennis ecco quindi questo secondo me è un punto di partenza cioè cercare di valorizzare le i reali interessi suggerendo anche dei percorsi e quindi a quel punto si riesce poi ad attivare un velo dialogo perché altrimenti il dialogo è come un po' quando appunto quando si chiede come è andato oggi a scuola bene la risposta è questa non è che si possa andare molto oltre almeno con gli adolescenti quindi ecco invece cercare di coinvolgersi di essere realmente interessati ci aiuta poi a costruire questo dialogo ma diciamo che l'altra risposta è come è andata a scuola bene contro domanda cosa avete fatto la risposta si comprende con niente ecco ma a proposito di niente ma o meglio a proposito di legami professor lancini stefane garassini ha parlato appunto della della possibilità di generare un legame di rinsaldare un legame di approfondire un legame con i propri figli nel libro a un certo punto lei dice scrive questa frase gli adolescenti odierni sono alla disperata ricerca di adulti di riferimento e quindi possiamo tradurlo di adulti ai quali in qualche modo legarsi e collegarsi naturalmente dentro ma soprattutto fuori dalla rete gli adolescenti odierni non sono più trasgressivi non sono cresciuti in una società sessofobica non hanno nessun padre autoritario da destituire e non interessa neanche più del sesso questo è il tema come dire su cui nei prossimi anni vedrete avremo dei dati che già noi intercettiamo da tempo la sessualità non dico scomparirà ma conterà sempre meno nella mente degli adolescenti perché quello che conta appunto è in una società dove si è cresciuto nel mito affettivo oggi della famiglia appunto affettiva relazionale o della madre virtuale in una società dove quello che conta avere tanti amici essere socializzato conta vivere nella mente dell'altro e in questo certamente come diceva stefania garassini internet ha contribuito non è un ambiente neutro cioè ha significativamente aumentato l'idea che conta molto quanto sei nella mente del popolo della rete ma anche del popolo dei tuoi coetanei che non è più solo il gruppo classe no ma è un popolo mondiale perché da casa tua è raggiungibile detto questo il grande diciamo novità è che insieme al sesso che non interessa e quindi interessa penetrare la mente dell'altro e non il corpo vedi il selfie vedi il sexting c'è una ricerca appunto di essere pensato che riguarda anche gli adulti ed è una straordinaria novità pensi solo al fatto di quanto sono aumentati i ragazzi che già prima pandemia non solo per disagi diciamo patologie ma per sofferenze si rivolgevano agli sportelli d'ascolto agli psicologi o parlano agli insegnanti dei loro problemi in passato tu mettevi in scena a scuola il ruolo di studente non è che raccontavi a un docente la tua storia o perché c'era qualcosa che non andava in famiglia è cambiata la visione dell'adulto problema è che l'adulto questo lo capisce anzi ha contribuito in maniera decisiva a cambiare questo modo di pensare e di sentire dell'adolescente verso l'adulto e di guardare all'adulto la scuola istituzionale durante l'infanzia e quando arriva l'adolescenza invece lo infantilizzano l'età tradita è anche questa noi abbiamo dei modelli in Italia lo dico da tempo è un'emergenza so che oggi dire emergenza c'è solo quella sanitaria ma un'emergenza educativa da tanti anni che c'è un processo di anticipazione o di precocizzazione delle esperienze dell'infanzia i bambini oggi sono spinti a crescere con una precocizzazione con modelli nuovi e poi li infantilizziamo in adolescenza con l'arrivo delle scuole secondarie e dell'adolescenza improvvisamente cambia il paradigma quindi il tema è questo puntare tutto sulla relazione attraverso la relazione oggi un ragazzo ti segue non ti segui a scuola sulla singola disciplina la singola disciplina le materie pensano che possano essere recuperate quello che pensano che non è recuperabile è non essere pensato dall'adulto e se un adulto è in grado di offrire relazione ovviamente nel suo ruolo poi la disciplina la segui no la materia è quello ma perché c'è passione c'è relazione c'è interesse c'è capacità di stare in relazione invece molto spesso noi è come se anzi in generale è questo il problema creiamo bambini che sono iper relazionali che devono conoscere tanti di quei coetanei che sapete meglio di me che a undici anni hanno frequentato tanti di quei coetanei che li avevo frequentati all'ultimo anno di università gli diciamo che devono vestirsi a otto anni anticipare le esperienze come ci vestivamo noi appunto all'ultimo anno dell'università tra poco il pigiama party dei bambini lo faranno direttamente in uscita dalla nursery perché tanto il pigiamino ce l'hanno già essendo appena venuti al mondo poi arriva l'adolescenza gli diremmo che sono fissati con le relazioni che non si sottomettono all'adulto che vogliono vivere nella mente degli altri e che invece è tutto sbagliato perché adesso invece è arrivato il momento che devono chiudersi una stanza soffrire in silenzio e domani ripetere quello che qualche insegnante vuole sentirsi dire altrimenti lo bocciamo capisce non è così che funziona loro non vedono l'ora di andare avanti con questi modelli noi sappiamo adesso che la scuola è composta in italia da 43.000 edifici quindi è come le famiglie sono ognuna una cultura unica quindi adesso non vorrei generalizzare ma che ci sono alcune scuole anche secondari che sono andate in questa direzione che sanno che oggi conta molto la costruzione dal basso che gli errori sono parte del processo di crescita delle competenze della scienza scuole che parlano della costruzione dei saperi lezioni meravigliose a distanza diciamo la in italia oggi ci sono state delle lezioni meravigliose a distanza e pessime lezioni in classe non è che basta aprire una classe per dire che bella la lezione in presenza e quindi dovremmo andare in questa direzione altre che invece ritengono che quello che conta sia quello di valutare gli apprendimenti e dare un 5,382 che fa media con 3,488 poi se questo avviene anche quando la scuola riapre in epoca di pandemia lei capisce perché gli ragazzi dicono sì sì avete ragione sono dipendente da internet mi chiudo in casa cercherò là il mio futuro e questo lo dobbiamo contrastare assolutamente io sono preoccupatissimo non solo del fenomeno del ritiro sociale ma del fatto che sempre più spesso avremo ragazzi che diranno e guardate che è una cosa terribile contesteranno la scuola non attaccandola ma sottraendosi dicendo non mi serve non mi hai capito me ne vado e uno può dire chi se ne frega disperdi ti vai a alimentare in it oppure preoccuparsi di avere la propria utenza che invece di andare nel luogo migliore dove crescere in italia decide di chiudersi in casa e cercare il proprio futuro a casa proprio attraverso inter su questo poi eh torniamo più avanti e ripasso eh da stefania garassini anche qui proponendo ancora un passaggio del libro che è il seguente e che riprende una parte dell'ultima eh affermazione del professor lancini cioè è molto più difficile individuare alternative che proporre divieti allora eh questo nel libro riguarda internet ma come abbiamo capito eh riguarda in generale l'approccio di noi genitori nei confronti dei figli adolescenti e qual è il il suo punto di vista Garassini. Certamente il il è molto più difficile trovare alternative no abbiamo visto come come può nascere un dialogo all'interno di una di una condivisione degli argomenti e delle e dei protagonisti del mondo digitale non è facile ci vuole bisogna dedicare del tempo bisogna essere autenticamente interessati allora da lì poi possono partire le alternative quindi certamente questo è è più difficile possiamo proporre alternative ma sulla base di un vero interesse verso quello che adesso piace ai nostri figli non che vorremmo che gli piacesse la la conferenza di fisica quantistica invece loro guardano Favij ecco dobbiamo trovare una mediazione cioè dobbiamo cominciare a guardare Favij e poi eh a capire che cos'altro potremmo proporli propogli naturalmente questo però si lega a un discorso del diciamo su una certa gradualità che ci vuole per accedere al mondo virtuale al mondo digitale io credo che sia certamente importante introdurre alternative però che una forma di gradualità sia necessaria per riuscire poi ad arrivare in modo maturo a poter fruire delle offerte del mondo digitale quindi certamente i divieti da soli non bastano però credo che un qualche limitazione all'utilizzo del di questi strumenti possa essere utile proprio per riuscire a favorire una gradualità un arrivo a possedere uno smartphone a usarlo in modo maturo quando è quando effettivamente questa maturità c'è cioè quando noi consegniamo uno strumento del genere a un ragazzino dobbiamo essere anche in grado di fidarci un po' di lui di lei cioè non possiamo pensare di dover controllare tutto quello che fa questo non ha senso cioè è più allora è meglio magari aspettare di più a dare a dare uno strumento del genere e cominciare a esplorare il mondo digitale insieme usando altri strumenti per esempio il pc per esempio l'ipad per esempio la playstation giocare insieme a qualche a qualche videogioco ecco c'è tutta una gradualità che fa parte di questo discorso delle alternative cioè noi possiamo comunque offrire delle alternative ai nostri figli possiamo comunque cercare di fare in modo che cominciano a esplorare il mondo digitale ma insieme insieme in modo condiviso il più possibile ovviamente non è possibile farlo a tempo pieno però ecco porci questo con l'obiettivo di cercare di condividere il più possibile queste esperienze e quando sono piccoli è più facile farlo ovviamente poi è giusto lasciare autonomia però ecco credo che questo accompagnamento questa ricerca delle alternative sia sia molto collegata anche a una gradualità di introduzione di questi strumenti nella vita dei ragazzi quindi stefania la password dello smartphone non deve essere nota ai genitori domanda bruciapelo risposta bruciapelo io credo che la password dello smartphone dovrebbe essere nota ai genitori almeno fino ai 13 14 diciamo nei primi anni di liceo non perché la debbano usare non la devono usare è come la chiave della camera di un ragazzo devono devono poter avere accesso non entreranno mai senza bussare un genitore non entra senza bussare però deve poter accedere perché perché quando ci sono dei comportamenti particolari delle situazioni difficili in cui insomma un genitore si rende conto che c'è un problema ecco dicevamo lo smartphone è una scorciatoia è una scorciatoia anche per capire cosa sta succedendo allora in casi estremi può essere utile accedervi quindi io non non credo che ci debba essere questa chiusura ovviamente sto parlando di anni eh di anni del liceo certamente non ma i primi anni del liceo più avanti è chiaro che la fiducia aumenta quindi eh si può anche eh prescindere però io credo che nei primi anni sia fondamentale una certa trasparenza e quindi la conoscenza della password anche degli account degli questo mi ricordo uno youtuber che lo disse a una conferenza di ser genitori sappiate le le password degli account dei vostri figli cioè instagram ok questo è insomma è parecchio però ecco quindi un chiusura niente lettura notturna del chat di whatsapp no assolutamente secondo me una regola cioè che proprio risolverebbe già da sola il 70 per cento dei problemi di bullismo è non portarsi lo smartphone in camera da letto e questo non lo dico io lo dicono gli americani guru della silicon valley dicono no screen in the bedroom cioè a una certa ora la tecnologia rimane fuori dalla camera tu ti sta che hai un momento in cui non sei contattabile no sei da solo con te stesso leggi un libro non sei sempre sollecitato da quello che succede all'esterno e questo se ci pensiamo è un modo appunto per risolvere anche problemi legati al bullismo perché io credo che un messaggio negativo ricevuto da una ragazzina da sola in camera sua di notte con un messaggio che le dice qualcosa di estremamente sgradevole di cattivo nei suoi confronti è non so adesso appunto poi mi piacerebbe sentire anche il parere del professor lancini è sicuramente ha un impatto emotivo molto più forte che non lo stesso messaggio visto la mattina dopo col sole mentre si fa colazione con la mamma e i fratellini quindi sentiamolo subito allora lancini sentiamolo cosa cosa dice ma figurate io tutti i giorni sono pieno di ragazzi che danno le password ai genitori pur di tenere buone le loro ansie io sono cresciuto in un'epoca in cui loro ti danno tutto è proprio un'altra visione quello di puntare sulla responsabilità a sette anni una volta andavi in giro per il mondo altro che essere chiuso in casa se chiedete a me e ti dicevano attento che non c'è la caramella drogata cioè sono tutti interventi che io comprendo ma mossi da un'angoscia adulta che continua a controllare senza poterlo fare le proprie ansie dicendo che il problema è quello dei ragazzi quindi si figura io sono per una visione per me uno può tenersi 60 password ma peraltro le mamme sanno già tutti i guai che fanno i figli senza andare nella password da questo punto di vista il problema ripeto le alternative io sarei non per evitare il cellulare lo sapete l'ho detto anche al sottosegretario della giustizia il viceministro in una recente audizione vieterei il cellulare dai 28 anni in su agli adulti lo renderei obbligatorio dai 28 anni giù forse molto prima dei 12 degli 11 cioè è una visione di che alternativa abbiamo a 7 8 anni in un mondo pericoloso fatto di stragi di piazza fontana a milano e morti in strada i bambini andavano in giro per le città capisce altro che dentro la questione era una visione diversa perché gli dicevano quello è il mondo c'è la comunità educante quello è il problema li abbiamo messi sotto sequestro in noi non è che il cellulare li ha catturati mentre li potevamo lasciare andare in giro li consegniamo a un asilo nido durante sei mesi poi gli teniamo il corpo sotto sequestro quindi io è proprio per la mia visione punterei tutto sulla responsabilità e poi sull'alternativa non posso citare perché siamo in diretta ma quando sento dire che il problema è che i ragazzi sono su internet su facebook non ci sta neanche più perché li abbiamo presidiato anzi l'avete presidiato perché io non ci sono c'è instagram c'è il titolo perdono tempo chissà su forna e la violenza ma qualcuno si ricorda la violenza dei cortili e dei giardini degli anni 70 80 anche qui non posso dire cosa e poi mamme contente oh stasera è con me di là vedere un bel festival a una trasmissione che dice che inneggia l'amicizia invece pornografizza e svalorizza l'amicizia e dipende da che sistema di valori abbiamo io credo che ci sia troppa angoscia degli adulti e poca capacità di consegnare la vita ai figli e quindi questo tema se chiede a me io vieterei per legge le settimane dei talks e obbligherei ad avere il cellulare acceso la sera a tavola perché così diventa argomento di discussione invece vedo un sacco di famiglie che lo spengono la mezz'oretta e poi la sera dopo tutti a recuperare quindi spegniamolo noi nella nostra stanza nella nostra camera se chiedete a me eh non lo facciamo entrare noi iniziamo a far vedere che siamo pronti a costruire un nuovo modello e vedrete che i ragazzi vengono dietro qua il problema è responsabilizzarli gli adolescenti purtroppo gli adolescenti fanno così io ho iniziato a prendermi il carico delle angosce dei genitori a 14 16 anni oggi iniziano a 11 10 fra un po' faranno così mamma sono andato male a scuola sequestrami la playstation e spegne il cellulare allora noi non possiamo permetterci un ribaltamento dei ruoli e oggi avviene un ribaltamento dei ruoli quello che l'adulto spaccia per controllo è una fragilità che chiede ai ragazzi di non costruirsi un progetto futuro dopodiché dico a Stefania per come la vedo io è pieno il mondo di gente che ha costruito il successo in internet e gli conviene poi se volete vi dico perché continuare a dire a tutti voi non lo usate lo uso io ma perché quelli della Silicon Valley non chiudono l'azienda invece di fare gli appelli e tutti gli influencer e gli youtuber che hanno un fracco di soldi dicono ai giovani voi non lo usate io intanto mi costruisco il futuro quindi su questo la so gli adulti fanno quello che vogliono e costruiscono poi siccome gli conviene tenere a bada certe esagerazioni diranno sempre voi ragazzi non mangiate a sta tavola vi stiamo proteggendo quindi su questo io sono per l'idea che il parent control che uno poi a un certo punto dovrà smettere vi ricordo che se un ragazzo di 30 o 35 40 anni chiede alla mamma la password o non esce di casa si chiama psicotico cioè non è che bisogna vivere chiedendo il permesso e a che età farlo quando uno oggi è maturo vi posso garantire che ci sono dei tredicenni che usano in modo stramaturo uno smartphone e dei sessantenni che lo usano in maniera sconsiderata e quindi dov'è sta maturazione da cosa dipende dal valore che ognuno di noi mette intorno a che cos'è un comportamento responsabile il futuro è nella responsabilizzazione degli adolescenti l'abbiamo visto nella pandemia dopodiché vogliamo scegliere a 16 18 22 per me possiamo anche tenerla password fino a 48 anni anzi io sarei perché se abbiano la password però i figli dei genitori perché i genitori fanno dei disastri con internet che voi non lo sapete neanche si è bloccato antonio alle mie parole si è paralizzato non si sente più niente la fragilità di noi adulti se si può dire in due minuti da dove deriva dal fatto che pensavamo di educare i figli togliendogli molti ostacoli in una nuova famiglia affettiva e quindi abbiamo tutti i vantaggi che ho detto io e che quindi ci aspettavamo che così fossero felici e che fossero contenti e che tutto andasse bene invece con l'arrivo dall'adolescenza ci accorgiamo che ovviamente esistono dei compiti evolutivi nuovi e non basta togliere tutti gli ostacoli ai figli perché come abbiamo visto anche in occasione della pandemia la morte la crisi fan parte della vita sono anzi quelle che costituiscono un processo creativo e poi credo che ci sia qualche senso di colpa agli effetti per una società dove la caduta della comunità educante non lo dico io questo sì lo dicono tutti gli oratori lo dicono tutte le scuole lo dicono tutti gli educatori c'è gente che prova a non vivere in internet è stata una caratteristica personale quindi ci siamo troppo interessati all'idea di costruire la felicità dei nostri figli fregandocene degli altri per come la vedo io e dopo ci siamo accorti che poi avevamo dei ragazzi molto spregiudicati che vogliono fare quello che vogliono però anche con una fragilità e a quel punto proviamo il nome della nostra riprendere un controllo ma che ormai è tardivo perché il soggetto è cresciuto per 13 14 anni esattamente come lo voleva la mamma e il papà che improvvisamente gli dice però adesso basta ti devo controllare non essere così espressivo non stare tanto con gli amici ti ho cresciuto riprendendoti a partire dalla morfologica tutte le recite che hai fatto dall'asilo ma adesso il cellulare non lo devi se inizia a tenerlo in mano tu è troppo è troppa dipendenza insomma sono contraddizioni però possiamo far molto perché i ragazzi sono esperti di relazione appena gli possiamo dire dai che aiuteremo a costruirsi un futuro non si arrabbiano ci seguiranno poi se abbiamo esagerato qualcosa iniziamo dai corsi preparato e anche dalla chiusura per legge e faccio un appello che sia vera dei gruppi di whatsapp di chiunque abbia sopra i 30 anni soprattutto di quelli che governano la classe le squadre di calcio io voglio eleggere un rappresentante di classe della squadra della scuola di mio figlio non rappresentante di una chat dove si sviluppano delle dinamiche che meriterebbero degli approfondimenti dove c'è il gruppo poi c'è il sottogruppo leader che parla male delle altre che hanno fatto queste cose e parlano più male poi degli altri è lì che si crea la società terribile dell'individualismo della competizione dei like a tutti i costi dell'essere dalla parte dei vincenti ho gente che durante la pandemia sosteneva che io dovevo fare il tampone di mio figlio secondo dei criteri fuori da ognuna delle leggi che appunto voi al governo davate il ministro speranza perché secondo lei non ero etico se non facevo fare un tampone a mio figlio perché l'allenatore aveva incontrato 15 giorni prima un altro allenatore che aveva incontrato 15 giorni prima un ragazzo che viveva in un'altra regione aveva il coronavirus ma chi sei il ministro speranza allora su questo dobbiamo in questo contrastare la nostra cultura torniamo a incontrarci nelle classi riapriamo i cortili giardini e obblighiamo i figli ad andare da soli a scuola e allora vedrete vedremo se è internet il vero male chi ha fatto ricerche serie sa che non sono stati quelli della silicon valley a diffondere lo smartphone e basta non è stato il gestore l'inventore di fornite call of duty gta 5 o assassin creed o tiktok a scrivere vietato il gioco del cortile a impedire ai bambini di tornare da soli la virtualizzazione delle esperienze è frutto di angoscia adulte che hanno chiuso cortili giardini hanno messo sotto sequestro il corpo dei figli e guarda caso l'attacco al proprio corpo è proprio la modalità elettiva attraverso la quale oggi l'adolescente esprime il proprio disagio sei tu che non va bene il tuo corpo non è mai l'altro allora su questo credo che ci sarebbe molto da fare in tema di angoscia adulte stefana grassini ci aveva chiesto di essere liberata alle 19 15 e mancano 120 secondi allora ti porgerei una un'ultima domanda cioè alla diciamo pre chiusura del nostro incontro che poi chiuderemo con il professor lancini un consiglio o una prospettiva per i nostri genitori che stanno ascoltandoci e per anche gli educatori che sono con noi in questo momento non posso dare un consiglio a questo punto come faccio una prospettiva però si può si può una prospettiva ma allora io credo che non c'è una ricetta sono assolutamente d'accordo su questo ma penso che si deve partire da un approccio realistico cioè come siamo fatti noi e come sono fatti i mezzi abbiamo visto che i mezzi non sono neutrali quindi è vero che si possono usare bene o male ma non è vero che non ci influenzano quindi dobbiamo saperlo e dobbiamo cercare di usarli bene io non sono d'accordo che dobbiamo per farci tornare in cortile sì possiamo tornarci per carità ma dobbiamo anche parare a usare bene internet cioè su internet si creano delle relazioni vere anche naturalmente non possono essere solo quelle no ci devono essere anche quelle nella vita materiale fisica però sono reali quindi usarlo bene e partire però da come siamo fatti noi è verissimo anche io chiuderei tutti i gruppi whatsapp io cioè un gruppo sono rappresentante di classe di mia figlia in seconda liceo e abbiamo deciso di non aprire il gruppo whatsapp alcuni genitori ci hanno scritto perché non l'aprite facciamo con la mail e quindi non l'abbiamo aperto perché so benissimo che un gruppo whatsapp può degenerare e diventare una specie di selva oscura dove poi però questo non vuol dire che allora i ragazzi vanno bene a mio avviso che possono fare tutto vuol dire che anche noi dobbiamo imparare molto no allora che sia noi che i ragazzi abbiamo davanti le stesse sfide gli stessi problemi dobbiamo tutti imparare a usare bene questo questo strumento perché appunto ha delle logiche sue e per esempio su whatsapp favorisce una escalation dei toni no per cui uno comincia su un livello diciamo tranquillo e poi non si sa perché comincia a diventare non si sa perché si sa perché è semplice perché basta cliccare invio e quindi si si scaldano i toni no allora poi diventa ingovernabile la situazione allora sapendo questo però io credo che l'atteggiamento migliore e più così che ci dà anche speranza la possibilità di fare qualcosa come giustamente si diceva prima è quello di essere sapere che abbiamo davanti le stesse sfide noi e ragazzi quindi il famoso cellulare fuori dalla stanza certo che dobbiamo tenerlo anche noi adulti e dobbiamo essere i primi che lo dobbiamo caricare fuori e come ci svegliamo con una sveglia ma esistono ancora sì sul commercio esistono ok lo facciamo noi per primi certo è ovvio è quella è quello il punto di partenza perché io per esempio lo faccio ma ma perché penso che effettivamente ci voglia un momento in cui staccare no in cui essere essere non contattabili quindi ecco se non lo so se è un consiglio però io credo che è un atteggiamento che possa aiutarci è quello di pensare che abbiamo davanti le stesse sfide noi non siamo capaci di gestire un gruppo whatsapp verissimo d'accordissimo dobbiamo imparare però i nostri figli pure magari ce lo potrebbero spiegare loro in certi casi dopo secondo me dopo una certa età perché se si vede un gruppo di 11 anni sono strapieni di messaggi no e diventano qualcosa di assolutamente inutile e e quindi ecco credo che che potrebbe essere questo un punto di vista interessante non so se sia un consiglio ma insomma abbiamo davanti le stesse sfide possiamo vincerle sì però non pensando né che noi sappiamo tutto i ragazzi non sanno niente né che loro sanno tutto e noi non sappiamo niente sono due estremi che non ci portano a un vero dialogo e una vera crescita educativa e adesso effettivamente allora io diciamo grazie grazie a voi per essere stata con noi se dovessi riassumere questo questa sua chiusura direi che siamo tutti primitivi digitali sia i nativi che gli immigrati e da primitivo digitale ti auguriamo gli auguriamo un ottimo fine settimana grazie alla con la musica dell'ukulele e torniamo da professor lancini per la chiusura del nostro incontro grazie arrivederci grazie e professor lancini una lei prima ha fatto riferimento almeno in un paio di passaggi alla necessità di un padre e di una madre con ruoli differenti che svolgono la loro attività diciamo con quell'approccio che di cui abbiamo parlato in questi 37 minuti di nostro incontro però purtroppo sono sempre più le famiglie monogenitoriali dove normalmente più delle volte quantomeno c'è solo la mamma e il papà per tanti motivi non c'è o c'è molto poco rispetto a questa solitudine dell'adulto che anche qui la situazione diciamo relativamente nuova rispetto a quando eravamo bambini noi potremmo e andavamo a scuola a partire dalla terza elementare non a caso perché in seconda elementare c'era l'esame che era il primo step prima prima sanzione positiva verso l'età adulta in questo contesto che indebolisce credo oggettivamente senza dare un giudizio moralistico la condizione di noi genitori come ci si muove rispetto a questa fatica che diventa doppia la fine nella solitudine ma guardi questo tema di dove andremo che cosa sarà una funzione paterna una funzione materna come si declineranno un tema complicatissimo molto anche come dire su cui si scatenano tanti dibattiti ideologici io credo che il tema è quello della comunità educante della rete anche nelle difficoltà cioè quello che non dobbiamo dimenticare forse io non l'ho detto abbastanza è che la famiglia e la scuola hanno molti più competitors del passato che quindi anche una famiglia unita oppure una famiglia monogenitoriale ci si può anche sentire più soli anche se ci si può sentire soli anche in due a volte più da soli dipende ha bisogno di un di creare un contrasto alla aumentati modelli di identificazione che oggi sono tantissimi competitor che hanno la scuola e la famiglia appunto televisore 24 ore al giorno di cartoni animati marketing dei bambini i bambini di oggi sono crescono sdraiati hanno conosciuto tanti coetane quindi il potere orientativo dei coetanei e potrei andarne a dirne molte altre quindi credo che il tema noi abbiamo parlato di internet ma più in generale sia che cosa vuol dire oggi creare una comunità una comunità che sostiene su questo io ho detto prima penso che alcune delle cose che abbiamo detto ritornino se ve ne siete accorti ancora l'idea trattare internet come fosse uno strumento un oggetto che crea ma tutte le cose che noi diciamo di internet credetemi le potete vedere ogni giorno in qualsiasi aula possono succedere scolastica a volte posso dirlo politica oppure può succedere in qualsiasi ambiente e noi continuiamo a dire che l'algoritmo di internet a favorire questa roba qua internet certo che avrà ampliato questo aspetto ma si è diffuso in una cultura di questo tipo perché non c'è la competizione ogni giorno a scuola non ci sono i genitori che invece di essere contenti di avere qualche bambino che dà fastidio al proprio a scuola vanno dall'insegnante a dire ma li potete togliere dalla strada della crescita che mia figlia al secondo anno delle primarie indietro nel programma di matematica c'è un pensiero che ha aumentato l'individualismo e la solitudine e allora diciamo che è colpa è colpa della rete ma tutte le cose che abbiamo detto della popolarità del successo del conflitto delle risse cioè sarebbe whatsapp ad alimentare le risse e no allora ci sono anche una serie di programmi televisivi che aumentano l'odio scolarizza cioè ci sono tanti modelli che noi dobbiamo costruire su questo ora perché guardi caso e finisco la parola io difendo internet che non ho un profilo neanche nonostante suggeriscono tutti invece di essere qui a cercare di parlare del mio libro se avessi dedicato questi 40 minuti aprendomi un profilo e ballando come dico sempre a petto nudo sarei in testa alle classifiche domani invece forse venderò qualche piccola copia sono scelte che ognuno mi fai quindi io internet sono pronto a chiuderlo domani ma tutti ci dicono che dobbiamo aiutare i ragazzi a muoversi lì dentro e che il controllo in adolescenza è destinato a fallire ci sono ricerche ben prima di internet dobbiamo responsabilizzare dopodiché capisco che l'angoscia è tale che ho sentito dire fino a prima dell'otto marzo e poi termino del 2020 che internet li rendeva gobbi gli faceva venire mancava la vitamina e pure ricerche che sostenevano non so come che praticamente gli adolescenti si suicidavano perché la notte appunto a tratti come le falene dalla luce blu del telefonino non dormivano e quindi giorno dopo si buttava sotto un treno io mi domando se chi dice queste cose incontra gli adolescenti purtroppo chi incontra gli adolescenti dovrà dire questa frase di chiunque ma è più maturo di quello che pensavo di quelli della loro età e noi che non li guardiamo non li ascoltiamo i ragazzi che pensano di suicidarsi hanno stilato un patto con la morte volontaria perché non vedono futuro perché incontrano adulti che gli continuano a fare una moralina e non gli dicono che progetto avranno nel futuro perché sentono di non avere uno spazio in cui sono pensati sono convocati mica perché hanno dormito poco per colpa dello smartphone capisco che così andiamo a dormire sonni tranquilli oppure per una celle ecco l'altra favoletta volevano vivere ragazzi che si sono impiccati così al funerale applaudiremo e lanceremo palloncini invece di pensare a che società abbiamo creato noi colpa della challenge non di certi nostri modelli educativi quindi dobbiamo essere realistici iniziamo a fare qualcosa per aiutare i nostri figli ad avere un futuro e se qualcuno dice che l'unica cosa che devono fare anche dopo una pandemia che li ha costretti dal 9 marzo a stare davanti a uno schermo sei ore e adesso ritorniamo a scuola adesso lo spegni è chiaro che loro se ne andranno da un'altra parte ma lo faranno per sopravvivere perché purtroppo non hanno neanche la capacità di dire ma smettila di pensare a te stesso scuola e famiglia pensa a me invece loro pensiamo a noi stessi dicendo che pensiamo a loro e quindi per favore vai a dormire senza il cellulare che io lo uso tutta la vita tu per favore a tavola a te lo spento mentre tutti costruiscono e anche quelli che sono ricchi lanciano appelli dai loro profili social ricchi grazie social non li usate vi fanno male lo uso io pure il festival di sanremo praticamente in mano a internet e non lo governano i ragazzi pensate a tutti quelli che parlano solo del fanta sanremo vanno a sanremo obbligano il conduttore tutta la rete è invaso tutto non è uno strumento è un ambiente all'interno del quale questi devono crescere li vogliamo aiutare a costruirsi un futuro lì oppure spegniamo internet ma decidiamo una delle due non è che li possiamo fare impazzire dicendoli che se ci sta allora è sbagliato e quando ci sta tutto il mondo invece va bene direi che insomma l'abbiamo detta con chiarezza io le dico che ho lanciato una recensione positiva su amazon recensione positiva del libro perché nella parte finale del libro c'è proprio un esempio tratto da una recensione negativa su amazon dico a parziale consolazione e con un sorriso naturalmente ma con in realtà seriamente con un grande ringraziamento perché credo che comunque abbiamo seminato un po più di consapevolezza e io credo e spero di desiderio di una un approccio diverso nel confronto sguardo diverso nei confronti dei nostri ragazzi e questa comunità educante a cui ha fatto più volte riferimento che è fatta se capisco bene dalla famiglia da un lato da uno che recuperi questo tipo di di approccio cioè uno sguardo non autoreferenziale il grande limite della politica è l'autoreferenzialità e con questo è anche grande limite come abbiamo sentito del nostro sguardo nei confronti dei ragazzi cioè tutto sommato se qui traduco e non prenderli sul serio cioè il pensare che le cose dimenticarsi di quando eravamo ragazzi noi io lo nello sguardo e chiudo veramente perché abbiamo superato i 19 25 che ci avevamo detti come termine ultimo nel nostro incontro io nell'approccio con i nostri figli cerco sempre di ricordarmi cosa provavo alla loro età perché ritengo che sia un uno strumento utile a mettermi nel modo positivo a loro altezza che non vuol dire semplicemente abbassarsi poi io sento già basso non faccio fatica ad abbassarmi per incrociare lo sguardo dei figli ma nel senso di capire che quello che per noi una bambinata per lui è il mondo e che la prima la prima cotta è una cosa serissima che equivale al mio e nostro matrimonio che dura da 25 anni quindi di conseguenza con questo appello a uno sguardo più serio io ringrazio professor lancini ringraziamo ancora stefania grassini e eugenio cipone regia pensiero solido e tutti coloro che sono stati con noi questa sera e ora finalmente possono uno tornare al proprio smartphone più liberamente due a prepararsi al festival di sanremo tre magari prima fare la cena grazie e buona serata a tutti